Amici di youtube, ben ritrovati in un nostro nuovo video ho visto tante recensioni di Inbox di cui non ho capito praticamente niente oggi ve lo cerco di spiegare in pochi minuti nella maniera più semplice possibile Andiamo subito a vedere come si comporta Inbox, questa nuova applicazione di Google per le mail prima cosa dovrei dire, ho tre inviti per invitare qualcuno a usare Inbox perché ancora in versione prova, scrivetemi la vostra mail nei commenti se volete essere invitati ne sceglierò tre a mio piacimento la differenza principale tra Inbox e Gmail è il raggruppamento automatico delle mail in arrivo anche Google lo fa ma in maniera peggiore questo Inbox permette di raggruppare i viaggi, gli acquisti, le finanze, i social insomma se per un tanto viaggio di Expedia la mail vi arriverà direttamente in viaggi e non in acquisti e non in Inbox normale insomma è molto meglio integrato a questo sistema, ha ancora un po' da perfezionare interessantissima la casella dei forum dove possiamo andare a rispondere direttamente ai messaggi di forum free, insomma dei forum in cui seguiamo e anche ovviamente è possibile andare a vedere le mail che sono in arrivo io ad esempio voglio vedere una mail, ho cliccato direttamente sull'immagine e posso senza andare a vedere la mail direttamente guardare l'immagine che mi è stata inviata in questo caso un occhio735 andiamo a vedere un'altra mail, ad esempio questa di Wiko vedete che posso andare a leggerla in alcuni casi, questa non è in HTML, non posso andare a zoomare ma posso comunque andare a vedere il documento che deve essere un file word esatto e posso insomma leggere tutta la mail in alcune mail quelle che sono in formato HTML l'ho provato prima è presente anche il pinch to zoom interessante è anche la versione appunti quindi diciamo che secondo me andrà in pensione la versione delle note perché Gmail verrà sostituita in futuro da Inbox e anche l'applicazione delle note e possiamo ad esempio inserire il nostro appuntamento premendo il tastino qui vi faccio un breve esempio di una categoria andiamo su quella acquisti e vi faccio vedere dove io l'anno scorso ordinai il mio Nexus 5 e vedete questa è la mail di arrivo possiamo zoomare questo è un esempio di ordine in un esempio di mail HTML e vedete come la mail comunque viene letta in maniera molto bene insomma questo era un video per spiegarvi come funziona molto semplice ma io preferisco nettamente almeno per ora la versione mail del mio smartphone e comunque anche Gmail è più semplice da utilizzare se uno è alle prime armi Inbox è la chicca del maniaco di tecnologia quindi insomma noi l'abbiamo provata e per ora il voto è un 7 più c'è ancora tanto da migliorare io ringrazio il mio amico Roberto a chi mi ha invitato a Inbox e mi raccomando scrivete la vostra mail se volete essere invitati anche voi ciao a tutti